Siamo ENGIE, quelli che producono energia da fonti rinnovabili e la portano a casa tua. Quelli che, per la tua azienda, danno forma a soluzioni per la decarbonizzazione e che fanno sì che gli edifici, i servizi pubblici e le nostre città siano sempre più efficienti e rispettosi dell'ambiente. Noi di ENGIE mettiamo tutta la nostra energia per migliorare la tua. ENGIE ENGIE